Ma non si può mettere in discussione che ci sia solo una possibilità in Lombardia per avere un governo che faccia fare a questa regione un passo avanti, che dia allo Lombardia il ruolo e lo spazio che merita per trainare la ripresa italiana e questa unica possibilità si chiama Giorgio Gori e le persone che lo sostengono. Ed è un discorso che vale anche a livello nazionale. L'unico pilastro per questa seconda stagione di riforme è il Partito Democratico con i suoi alleati. Questa è l'unica possibile strada per un'Italia che non va indietro ma che va avanti con le sue sfide. Grazie Giorgio, tanti auguri, grazie a Milano e forza Giorgio Gori.